poco insomma tutte queste cose qui però ma ci sono ancora tanti c'era visto penso un decimo di quello che ha minecraft forse c'è una mini mucca eh sì sì la mini mucca è ovvio vieni mini mucca andiamo lo sapete io sono il catturano che vieni mini mucca andiamo a casa come vieni voglio fare tipo una cosa così e dividere tutti gli ortaggi vieni mini mucca vieni con me vieni con me andiamo a casa portiamo a casa mini mucca tipo qui mettere solamente grano e poi fanno uno solo patate tipo così intorno metto le slab così quando si raccolgono non cadono in acqua secondo me sono le mega mucche che accolgono le mini mucca è già un po più in ordine secondo me però perché non si apre il coso delle mucche devi salire sopra il tabellino bianco sale a sì dai mucchetto vieni dentro perché non lo salita non può salire è fatto apposta ok questa è una scena bruttissima in realtà c'è la mucca sta si sta ragazzi si sta scopando il legnetto ma come? è bruttissima sta scena ma no non si sta da uccidere si sta ma ragazzi a quanto pare gli sta anche piacendo perché era la che guarda binaria però mini mucca non devi non devi farti il legnetto devi entrare dentro vieni dentro vieni dentro niente non riesco a far entrare la mini mucca ma qui non c'era un cancellino joe chic con le tue competenze tecniche non c'era un eh no non mi fa mica entrare eh no no che strano anche qua è chiuso avete chiuso la farm tutte quante